Siano lodati Gesù e Maria. Carissimi, il cuore della liturgia della parola di questa domenica è certamente la profonda compassione del Signore per le folle, per le pecore, per i Suoi figli amati. Una compassione nel senso vero del termine, cioè un patire con, un sentire i bisogni, i dolori, le speranze di ogni singola pecorella nel proprio cuore. Il cuore di Gesù è veramente infinito, grande infinitamente più dell'universo, capace di accogliere tutto noi stessi, tutti i nostri pensieri, tutte le nostre preoccupazioni, tutte le nostre vere necessità, in primis la pace del cuore e la salvezza eterna della nostra anima e dei nostri corpi. Il Signore ha compassione di queste pecore perché sembrano essere delle pecore che non hanno pastore. Ebbene sì, già il profeta Geremia, ispirato da Dio, si rivolge ai pastori di Israele nel nome del Signore, dice il Signore stesso, abbiamo ascoltato nella prima lettura, guai ai pastori che fanno perire e disperdono il greggio del mio pascolo. È una voce forte che il Signore fece elevare contro i pastori di Israele perché non erano preoccupati del bene delle pecore, ma dei propri interessi. Cosa dovrebbe fare il pastore nei confronti delle proprie pecorelle? Uno, avere costantemente il pensiero, il cuore rivolto al loro bene, condurle sulle strade giuste, le strade della verità, le strade del bene, dare loro da mangiare, curarle nel momento in cui sono stanche e sofferenti, avere quindi profonda compassione, essere tutti per loro. Ed è quello che il Signore ci ha insegnato a fare, Lui attraverso la sua predicazione, il suo esempio, attraverso il dare se stesso in cibo per le nostre anime e il prendersi cura di ciascuno di noi in ogni momento e situazione. Ebbene, questo dovrebbero fare coloro che oggi pascolano il greggio in nome di Cristo, il vero pastore, l'unico grande pastore. Allora il Signore, vedendo i Suoi apostoli, i Suoi inviati di ritorno dalla missione, erano stanchi. E che cosa dice loro? Non dice certamente perché non andate dalle pecore? Forza, forza, al lavoro, al lavoro, al lavoro. Certamente i pastori che pascono in igreggio in igreggio, devono essere instancabili, devono consumare se stessi per il greggio, ma non completamente. E cioè il Signore quando li vede stanchi dice venite in disparte voi soli in un luogo deserto e riposatevi un po', riposatevi con me. Com'è importante che il pastore, lo diceva anche San Gregorio Magno, non si consumi completamente, non consumi completamente le sue forze per il greggio, ma sappia anche riposarsi in quel riposo giusto, in quel riposo santo, che non è certamente dissipazione, egoismo o scansare la fatica. No, no, è quel riposo soprattutto del cuore, ma anche del corpo, necessario per poter svolgere una missione difficile, impegnativa, nel momento in cui la si vuole svolgere veramente, così come il Signore ci ha insegnato. Per questo è importante che i pastori sappiano riposarsi sul petto di Gesù, sappiano ritirarsi in disparte, non stiano sempre in movimento, in attività, sempre, sempre, sempre ad agire, a muoversi, sempre con le pecore, ecco, permettetemi. No, i pastori hanno bisogno anche di stare un po' da soli, in disparte con il Signore. Questo è molto importante e i fratelli laici dovrebbero anche sostenere e incoraggiare i pastori in questo santo riposo, che sappia essere una ricarica per svolgere bene il loro ministero. Ma chiunque, chiunque svolge un incarico in nome di Dio, anche in famiglia, anche sul lavoro, deve essere certamente sempre impegnato per il bene della comunità, della società a cui il Signore li ha mandati, ma deve sapere anche staccare quella spina che li porta a ricordare che il fine ultimo di tutto è il Signore e a Lui bisogna orientare tutte le energie del cuore. La Vergine Maria, la donna tutta compassione per il prossimo, ma anche tutta contemplazione e il riposo dello Spirito in Gesù, ci guidi in questo cammino missionario non facile. E chiediamo anche l'intercessione di Santa Maria Maddalena, che è stata per Gesù conforto e ristoro con le sue premure, con la gioia che le ha donato, aprendo il suo cuore e accogliendo la sua misericordia. Siano lodati Gesù e Maria.